Un pubblico attento e delle grandi occasioni ha gremito domenica 12 gennaio 2020 la sala polifunzionale del Museo Civico di Cereto Sannita, in via Cavallotti, dove ha avuto luogo la presentazione dell'antologia su Michele Ungaro, a 200 anni dalla nascita del primo presidente della provincia di Benevento, promossa e curata dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cereto Sannita. La stupenda intreperazione musicale delle poesie dell'Illustria Ceretese, realizzata dal maestro e compositore Domenico Palmieri e dalla soprano Daniela del Monaco, ha intercalato gli interventi dei relatori Antonello Sant'Agata e Gioconda Fappiano, autori di alcuni dei saggi contenuti nell'antologia, e del professore Felice Casucci, professore ordinario dell'Università del Sannio ed autore della prefazione della raccolta. Con una narrazione agile e avvincente, i convenuti hanno tracciato la storia dell'illustre personaggio ceretese, cogliendone luci ed ombre ed inserendola nel più ampio contesto storico-culturale in cui si ritrovò ad operare. Note di encomio sono state spese per il sodalizio ceretese a nome del comune di Cerreto dal consigliere Cristian De Nicola, che ha elogiato quanti hanno contribuito con i loro scritti al lavoro presentato. Andrea Ferregno, Adam Biondi, Emilio Bove, Nicola Ciaburri, Pasquale Carlo, Gioconda Fappiano, Michele Servaggio, Antonello Sant'Agata, Santino Maria Suero, esprimendo loro una profonda gratitudine da parte dell'intera comunità cittadina. Dopo i saluti istituzionali, il presidente della società, Adam Biondi, ha omaggiato tutti gli studiosi con un attestato di merito e in particolare ha esteso al professore Felice Casucci la stima e la gratitudine del direttivo e dei soci per aver contribuito con una prefazione limpida e di alto spessore alla realizzazione degli scritti per il bicentenario della nascita di Michele Ungaro e il riconoscimento per l'azione culturale svolta sul territorio in qualità di presidente della fondazione di Gerardino Romano a testimonianza di un percorso umano ispirato al fare eticamente orientato e all'armonizzazione dei capelli. grande Laura Dio Nella relazione conclusiva, il docente dell'Università del Sannio ha sostenuto l'importanza del metodo comparato e dell'interdisciplinarietà applicata alla storia, come tracciato da grande storico francese Marc Bloch e ha sottolineato come la pubblicazione dei saggi su Ungaro non debba intendersi quale momento conclusivo del lavoro finora svolto ma all'inizio invece per la costruzione di percorsi progettuali nuovi per lo sviluppo del territorio sannita attraverso la valorizzazione di tutte quelle potenzialità finora non completamente espresse declinata attraverso i valori dell'Humanitas, la forma più alta di coscienza che contraddistingue la nostra cultura. E' un risultato intellettuale, soprattutto per i nove studiosi che abbiamo partecipato. E' come la rosella, dammi il rubasil, dammi il pantella da mille peggio di là, nu basa peggio di là, nu basa peggio di là, da mille peggio di là, nu basa 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 pegg Grazie a tutti. L'antologia è reperibile a Ceredo Sannita, presso la cartolibreria Rinascimento in Corso Carapa, l'edicola Regalangolo in Piazza San Martino o la sala dopolavoro della Società Operaia. Impeggiamoci ora nell'antologia, leggendo la prefazione del libro scritta dal professor Felice Casucci. Durante la lettura scorreranno le immagini della casa natale di Michele Ungaro, il palazzo attualmente di proprietà di più famiglie. Le foto riguardano la parte più bella e meglio conservata dell'ex palazzo ungaro, quella attualmente di proprietà della famiglia Costantini. A queste illustre famiglie ceretese va il nostro ringraziamento per averci autorizzato a fotografare i bellissimi affreschi vivi presenti. Le fotografie sono state scattate da Mario Sagnella, un giovane appassionato di fotografia e molto attivo nell'associazionismo di categoria, che prova attraverso le sue foto a mettere in risalto gli aspetti artistico-culturali che rappresentano il territorio locale, cercando di portare alla luce quella bellezza nascosta che non abbiamo mai apprezzato fino in fondo. La narrazione dei fatti di vita di Michele Ungaro, 1819-1890, patriota, politico, immagistrato italiano, contraddice tempi senza memoria e consuetudine all'ardore etico. Benvenga, dunque, a sollevarci dall'ignavia e dalla non curanza che ci investono. Chi legge, sin dall'esordio del volume, è attratto a moti supiti di voluptas civica. Perché la narrazione ben descrive una figura umana in carne ed ossa, signorile e attraente nei modi e nella parola, irripetibile per la sua diretta cerreto, a sentire le parole del poeta storico e politico beneventano, Antonio Mellusi, 1847-1925. Questo umanista tutto tondo, letterato, editore e benefattore, aggiunge il presidente Adam Biondi ai titoli precedenti, inneggia per strada alla Costituzione e all'Italia nel 1948 dopo la rivolta napoletana. Ma non si sottrae al riservo della coscienza e scrive, interpreta, traduce nell'operosità tipica che deriva dal saper fare e dalla curiositas. «Tacura», direbbe Cacciari, memore della inquietudine lucreziana. Le dediche che riceve dalla storia della filosofia del diritto del Magliani e dalla canzone al mare Ionio del poeta Nicola Sole dimostrano il credito di cui gode in campi diversi della cultura. La sua frequentazione con Giuseppe Verdi è un esempio di rara affinità d'anime. Avrebbe, dopo l'unità d'Italia, fatto parte della commissione promotrice del Monumento Europeo al teorico della musica e monaco benedettino Guido d'Arezzo, vissuto a cavallo tra il primo e il secondo millennio. Lotta per la provincia di Benevento, per la sua Cerreto, insieme ai fratelli e fra non poche difficoltà. «Si occupa in sede parlamentare di ambiente, trasporti, miglioramento delle strade del meridione, sprechi della pubblica amministrazione, riforma della tassazione sul sale, rimborsi delle spese militari ai comuni. In tutto questo mette passione e competenza. Stampa nel 1867 a Napoli un rendiconto ai suoi elettori. Riferito alla nona legislatura, esempio di non trascurabile, se paragonato al degrado dei nostri tempi, senso della cosa pubblica». Prende contro il governo le difese degli italiani in Egitto, dopo una lunga permanenza in quei luoghi. Tiene al miglioramento dei stabilimenti balneari di Telese, ai prodotti agricoli e pastorizi della provincia di Benevento, a misure per la legalità, vedasi la vicenda ceretese dell'ex tesoriere comunale di Nicola, e la qualità della vita dei cittadini, contro la usurpazione di strade e beni comunali. Il 3 marzo 1881 dà vita alla società di muto soccorso tra gli operai di Cereto Sannita, alla cui vivace e perdurante attualità si deve la bella pubblicazione qui prefata. I saggi del volume spaziano dal contesto familiare e sociale Andrea Ferrigno, Nicola Cia Burri, Adam Biondi e Michele Servaggio, alla produzione letteraria Gioconda Fappiano e Adam Biondi, all'impegno politico Antonello Sant'Agata, Emilio Bove, Adam Biondi, Santino Maria Suero e Michele Servaggio, Pasquale Carlo. Tutti gli autori sono mossi da sincera dedizione alla ricerca e da peculiare sobrietà stilistica. Le note genealogiche di Andrea Ferrigno sono prima guida alla scansione biografica di Michele Ungaro. Evocano ritmi e consuetudini di vita comune, dalla festa nuziale con la nobile napoletana Eloisa, 1854, ai dispiaceri elettorali e non, fino alla quiete degli ultimi anni, alla morte, 30 aprile 1890, agli eredi. Ed il pensiero va al giovane discendente morto in un tragico incidente con la bicicletta sulla via di Cusano. Nicola Cia Burri ci conduce al Grand Tour e gli affreschi di Palazzo Ungaro a Cereto Sannita, muovendo dalla rifondazione della cittadina dopo il terremoto del 5 giugno 1688, che ci ha donato una perla urbanistica di una modernità sconvolgente per la chiarezza del rapporto tra morfologia urbana e tipologia edilizia. Vedere in foto il camerino e i suoi stucchi rievoca alla mente l'antica devozione del chierico Alfonso Valletta per San Carlo Borromeo. Così come ammirare gli affreschi settecenteschi di notevole fattura dell'ex Palazzo Mazzacane, oggi Costantini, adorna di bellezza l'ospitalità e racconta, attraverso la simbologia, una storia viva. Si deve alla pena di Adam Biondi la conoscenza della Cereto degli anni di Michele Ungaro. L'interessantissimo lavoro di ricostruzione storica non lascia adito a dubbi sull'utilità della presente pubblicazione, consentendo di coordinare al contesto la narrazione svolta, comprendendone appieno la portata e gli effetti. La cribia e la puntualità dell'indagine risultano esaltate da una cromatica ricchezza espositiva. Risalta qui il nuovo ruolo di Cereto Sannita dopo l'Unità d'Italia, capoluogo di distretto e di circondario, non più dipendente da Perimonte, grazie all'opera dei fratelli Pasquale e Michele Ungaro. Quest'ultimo, primo presidente, risponde alle proteste conseguenti alla neonata provincia di Benevento con parole che suonano con un monito, la cui eco sopravvive a quel tempo. Le tradizioni, i costumi, le abitudini, le contrade, gli interessi della pubblica amministrazione debbono essere le norme. Le circostanze narrate sono innumerevoli, non può che farsene rinvio. Resta la sensazione forte dello spirito pionieristico dell'azione politica dell'Ungaro, che tra improvvisazioni stupefacenti e sdegni implacati porta avanti una stagione non solo di profondo rinnovamento, ma anche e soprattutto di sostenibile avanzamento civile. Animati da flato analogico, potrebbe dirsi che la funzione educativa inaugurata dall'impegno post-unitario consente di attenuare secolare fuoco depravante e della tirannide, per avviare a compimento una visione liberale di riscatto dall'ignoranza. Così, assai significativo è l'elenco dei consigli che Michele Ungaro indirizza nel 1875 alla comunità cerretese come reggio delegato. Un vero e proprio paradigma di sana amministrazione municipale di quale prevale la sua natura disinteressata. Andrebbe letto e meditato nella nuova e multiforme piazza digitale. Un epitaffio? Ho fatto il mio dovere. A volte, come spesso capita, a caro prezzo. E l'analisi acuta dello storico Michele Selvaggio occuparsi con uno scritto soprattutto provocatorio e giudiziosamente multilivello di Michele Ungaro e la massoneria nel Sannio. Illuminante è il dichiarato travaso dai principi contenuti nei statuti delle antiche corporazioni di costruttori e sodalizi successivi quali le società di mutuo soccorso che, come quella ceretese, sorsero nella seconda metà dell'Ottocento. Il rapporto tra prensiero massonico e modernità appare ben definito. Ciò, al di là dal giudizio e ancor più dal pregiudizio che vi s'addenza. La forte e prestigiosa presenza carbonara ceritosannita è un passaggio importante. Rispetto a Biondi, il Selvaggio estende gli attributi del nostro patriota, poeta, scrittore, egittologo, oratore, agricoltore, cavariere del Santo Sepolcro, sindaco, deputato, massone e magistrato. Davvero un personaggio eclettico, oltre che controverso. Evidenziati gli anni napoletani, allorché la sua formazione riceve l'impronta di un humus liberale, riformatore e innovativo, sulla scia di grandi maestri del passato, genovesi e filangeri, tra gli altri, prende risalto una personalità europeistica e illuministica. Un personaggio di prima grandezza, dunque, che trasferisce la modernità nel quotidiano a presidio di una realtà non avulsa dalla cultura e dall'intelligenza. Poi, la benevento della simbolica rivoluzione delle frasche consente allo storico una lettura mai data, in un'ottica cioè diversa, massonica che sul crinale dello Stato Unitario fanno di Michele Ungaro il campione di un sagace trasformismo politico. La parte terza, lo si diceva, è intitolata alla produzione letteraria e vi intervengono Gioconda Fappiano e il già menzionato Adam Biondi. La prima utilizza l'orizzonte ideale per far parlare profilo letterario del nostro autore, definito giurista poeta. in quanto espressioni viventi di un più profondo e consapevole fondamento umanistico al diritto, apportando in particolare la letteratura ai fenomeni giuridici una cresciuta consapevolezza etica. L'arte retorica costituisce il ponte di cui si serve Ungaro per attraversare la terra di confine e abbeverarsi alle fonti che lampiscono entrambe le sponde. Il dialogo poetico con Torquato Tasso 1843 penetra una dimensione oltretombale e serve con accenti romantici una nuova mitologia nazionale dove spicca la responsabilità morale ed educativa dell'artista. Dalla poesia civile dedicata alla Costituzione napoletana del 1848 alle liriche ed al contenuto intimistico e amoroso la Fappiano dimostra abilmente l'autore incline adozia letterari carichi di tensione emotiva nei quali la meditazione si muta in musicalità canto inno è ragionevole pensare che Lungaro ebbe il privilegio di confrontarsi con le grandi personalità che animarono la vita culturale e politica del suo tempo trovando nella cosiddetta inutilità delle sue incursioni poetiche gran parte di ciò che gli fu utile per la costruzione di una significativa carriera professionale e politica la Fappiano si interessa anche al romanzo d'appendice I misteri di Acerra pubblicato con uno pseudonimo a Napoli nel 1948 e ne fa una limpida esigesi critica ben indirizzata ai fini sistematici dell'opera leggere disordinatamente per indi riordinare è una buona bussola nel divenire in consulto del mondo prestandosi non solo a capire ma a sentire il progresso una narrazione fortemente legata alle tecniche tradizionali del racconto premia il merito della scrittura e ride la democrazia del mezzo che discosta dal fine della buona letteratura in questo si nota tutto il susseguo dell'erudito di incrite origini in questa parte il contributo di Biondi è riservato al tema di Michele Ungaro editore e filantropo per la sua vocazione a soccorrere i seguaci sfortunati dell'arte secondo l'elogio pubblicato dallo scrittore Marco Monnier su una rivista parigina la quarta parte attiene all'impegno politico dell'Ungaro Antonello Sant'Agata scrive brillantemente della nascita della provincia di Benevento e del complicato intrigo politico che si consuma all'epoca ponendo ben in evidenza l'aspetto dicotomico della reputazione di cui godeva e gode ancora il protagonista della nostra storia ma anche caratteristiche e attitudini degli altri principali intepeti della medesima storia Achille Iacobelli Salvatore Pacelli Luigi Sodo e Cosimo Giordano Di sfide tra Michele Ungaro e Salvatore Pacelli nel collegio elettorale di Cagliazzo 1861 1880 parla da par suo Emilio Bove Molto efficaci sono le incursioni nell'odierno ad esempio i partiti politici così come li conosciamo oggi comparati con le principali aggregazioni politiche esistenti nell'Italia risorgimentale il populismo eccetera irresistibile l'aneddotica che colleziona Bove nel suo incalzante racconto degli avvenimenti descritti una piccantissima nota di Salvatore Pacelli del 1861 strappa un sorriso pensoso quando egli avverso il duo Iacobelli Ungaro auspica che il disinganno si faccia universale l'audacia del privato interesse non possano deporsi al bene comune e gli esponenti di tutti i partiti finiscano una buona volta di insultare la libertà dei popoli questo volume dunque va detto con enfasi non è ageografico ben venga il vero anche quando produce un risultato sconsolante ingiustizia era fatta afferma il bove può valere a spiegare molti fatti inspiegabili non solo di natura politica ma anche di cronaca nera come l'omicidio del liberale nonziante Cifarelli a Civite in Laricinio la questione meridionale viene da quei giorni apparentemente lontani e passa anche per Ceredo Sannita sull'attività parlamentare di Michele Ungaro si intrattiene il saggio firmato da Adam Biondi un lavoro assai serio e puntuale che si illumina di spunti emblematici come la relazione del deputato Pavese Luigi Pissavini in occasione della convalida delle elezioni del 1865 vi si richiama tra l'altro in risposta ad una lunga lettura di protesta pervenuta presso la nuova sede parlamentare fiorentina lo sciagurato e funesto amore di Campanile un'annotazione di dettaglio un accorato appello al ministro dei lavori pubblici sulla situazione dell'agro di Telese datata 11 marzo 1875 l'attenzione alla spesa pubblica utile e agli interessi della povera gente ne fanno un corretto interprete della linea politica della sinistra storica da qui l'amicizia con Garibaldi il cui pensiero non è certamente associabile a quello della sinistra moderna animato com'è da una ferma avversione al dirigismo economico si è esplorato poc'anzi l'attivismo dell'ungaro in favore dell'agro telesino di questo argomento si interessano Santino Maria Suero e Michele Selvaggio l'ugenza che si poneva era quella della bonifica necessaria per salvaguardare lo sfruttamento delle acque minerali di cui lo stesso ungaro si era occupato con un opuscolo pubblicato qualche anno prima di bagno redentore parlò facendo Ieco il deputato Salvatore Morelli le opere di bonifica cominciarono nel 1881 Ungaro morì nel 1890 prima di vederne la conclusione il saggio conclusivo della quarta parte è quello di Pasquale Carlo dal titolo il comizio agrario il contributo della borghesia ceretese per il progresso dell'agricoltura titernina nell'età postunitaria si tratta di un saggio scolpito da forbite argomentazioni che lasciano nel lettore una piacevole sensazione di compiutezza integrando su un differente versante le dotte e diffuse informazioni fornite precedentemente il tema agricolo risulta centrale nell'area geografica considerata l'onorevole Ungaro offre anche in questo campo un decisivo contributo di idee e di energie qui le vicende postunitarie si intrecciano con il periodo precedente vedasi le società di agricoltura istituite da Murat al quale concorre l'ungaro con l'arma dell'istruzione traducendo dal francese con adattamenti un'opera in più volumi titolata Biblioteca di istruzione elementare risalente a pubblicazioni avviate a partire da 1832 nella cittadina di Molaus grazie all'attività del pastore della chiesa riformata di Strasburgo Adam Meder e producendo un volume dedicato all'agricoltura che venne stampato a Napoli nel 1857 di certo egli contribuì al progresso agricolo che si registrò nel titerno nella seconda metà dell'ottocento il comizio agrario dice il reto è una bella storia assistante nel panorama complessivo dell'opera che le conferisce un sapore particolare con quella cattedra ambolanti di agricoltura che ricorda certe esperienze fatte in altri angoli del pianeta a favore delle popolazioni più sfavorite su tutte quelle promosse dall'economista bengalese Muhammad Yunus famoso per il microcredito l'orto agrario come spazio di sperimentazione avrebbe fatto molto altro nel settembre del 1887 si tenne un'esposizione riservata ai cittadini del circondario di vini da pasto formaggi e oli d'oliva con riconoscimenti per gli espositori si anticipava il futuro ancora una volta Michele Ungaro era lì a guidare il processo del cambiamento l'ultimo abbraccio ideale quello tra comizio e società operaia per un'azione mirata all'organizzazione del credito agrario e operaio e infine un treno il treno della storia che Ungaro non prese perché non arrivò mai che allora a presto si purissimo Grazie a tutti.